Si chiamava Nikola Barabasova, era una ragazza giovane di soli 22 anni d'età e pensate che è morta a seguito di uno schianto in auto in diretta su Facebook in un incidente drammatico. Due ragazze, lei e l'altra, lei ha perso la vita, l'altra per fortuna è viva ma si trova gravissima in ospedale hanno provocato o meglio hanno avuto questo incidente. L'incidente che si è verificato a Mostri, Repubblica cieca, si trovavano in autostrada ad alta velocità più di 120 km e l'area e quindi si vanno a schiantare letteralmente contro una parete. La ragazza muore, poco dopo una sua amica va letteralmente in terapia intensiva in ospedale riportando diverse lesioni, lesioni piuttosto gravi, piuttosto brutte. Il video poi è stato pubblicato su Facebook che ha ovviamente sconvolto un po' tutti quanti. Vi ringrazio per l'ascolto. Nico Barabasova riposa in pace. Ovviamente questi sono video o meglio momenti drammatici. Certo, mettere un video come questo su Facebook non è la cosa più indicata del mondo secondo la mia opinione. Grazie, un saluto a presto.